ciao a tutti con diceva bentornati sul mio canale come vi avevo già detto nel video precedente questa è la seconda parte del video dove passate un pomeriggio con me se non avete visto la prima parte vi lascio il link qua o qua non so bene ma non perdiamoci in chiacchiere iniziamo subito con la sigla siamo dal parrucchiere si sta lavando i capelli lui e poi insomma gli tagliare i capelli io sto dormendo veramente sono troppo stanca perché è dalle 9 appunto che siamo in piedi in giro a fare commissioni che adesso non gli sto qua a spiegare quindi mi sa che dormirò c'è anche un bel venticerello abdoro che c'è il mio cuore? è tutto ma io mi sono andata non mi sono andata non mi sono andata non mi sono andata ho i trovso un nuovo pezzo un pezzo è un pezzo che vuoi? è una pezzo ah buonanotte, buonanotte buonanotte ti bacca buonanotte buonanotte buonanotte? buonanotte buonanotte ok Beh, l'uomo è buono, l'uomo è buono Bene Ce l'abbiamo fatta Siamo sopravvissuti Adesso torniamo a casa finalmente Ha le mani sudate questo Un pochino Cioè la parrucchiera gli ha chiesto 20 volte se vuole andare in bagno Lui ha detto tutte le volte di no Adesso dice che vuole lavarsi le mani Poteva andare allora prima, no? Vabbè, comunque Mi interessa stiamo tornando a casa In realtà siamo appena usciti dal parrucchiere Quindi ci vogliono ancora Almeno un'ora per tornare a casa Però dai È stata una giornata intensa e vaticosa Sono le... Mizzica Sono le 5 e un quarto Oggi Giugofundo Sigena Cioè dalle 3 e mezza che siamo lì siamo uscite alle 5 e un quarto Ci è venuto del tempo Giustamente Perché si è fatta la permanente Vabbè Con questi miei belli capelli Andiamo alla stazione Ah che cos'era? Una foglia Cioè 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 Flappe e Cappuccino Flappe? Flappe? Flappe e Cappuccino Flappe e Cappuccino ma possibile Flappe e Cappuccino How risky Sandra It is expensive Hang book It is Nankong non c'è solo Stabaccs grazie 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 buona 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 ok affogato espresso frappuccino espresso affogato espresso affogato cappuccino io ho preso questo espresso affogato cappuccino frappuccino 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 non piace tu hai preso strawberry strawberry frappuccino cioccolato frappuccino frappuccino chocolate buona se itassimo soffro frappuccino chocolate mixte uo 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 soya mi è buono il suo cioè a me non è che piacciono tanto le però mai è amai fuori cara tutto quello allora a me non piacciono poi tanto le bevande al gusto di strawberry rifronta comunque e comunque ho fatto bene a prendere questo e l'affogato il nanto cappuccino non mi ricordo più di preciso lui dice che non è che gli piace tanto anzi per i miei gusti questo è anche troppo dolce io ho preferito più amare come la vita anche un po' anche un po' anche un po' ma un po' 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 ovo si da strano ma sarà più bello ma non è più bello ma non è più bello provo a vedere tutto sommato bravo Siamo scesi dal treno, sono stanchissima, non potete capire quanto io sia provata per questa giornata. Comunque, siccome non abbiamo alcuna voglia né intenzione di cucinare perché troppo sbatti, abbiamo comprato del cibo d'asporto da Ottomotto, che è questa che vedete qua. Questo non è un fast food, non so come descriverlo, fa tipo carne, hamburger, riso, patatine, caraghe, che sarebbe sempre pollo fritto, salsiccette grigliate, comunque fa delle cose molto buone, anche delle porzioni di verdura grigliata, molto molto buona, abbiamo ordinato qua delle porzioni, io ho preso l'hamburger con le verdure grigliate e invece lui ha preso il caraghe, che è appunto pollo fritto e non mi ricordo più cosa, e poi abbiamo preso due zuppe di carne. Quindi adesso stiamo aspettando che chiamino il nostro numero che dovrebbe venire fuori da quella televisione che c'è qua. Adesso noi siamo fuori perché non abbiamo voglia di aspettare dentro. E niente, prendiamo sta roba, andiamo a casa, mangiamo e poi a letto subito perché siamo troppo stanchi, non ci faccio più, anzi quasi quasi non lo so, magari me lo mangio domani e oggi vado a dormire direttamente. Non lo so, non lo so. E dopo vi facciamo vedere che cosa abbiamo preso. L'altra volta l'abbiamo provato l'altra volta per la prima volta e era piuttosto buono e adesso abbiamo deciso di mangiarlo una seconda volta, quindi dopo vi facciamo vedere un po' che cosa abbiamo comprato. Eccoci qua, allora io come vi ho detto prima ho preso riso, hamburger e verdure grigliate, questo tipo potato salada, ma io non credo di mangiarlo. E poi abbiamo preso la zuppa che si chiama tonjiru, zuppa di carne. Lui ha preso karage, pollo fritto, e qua cos'è che c'è? Pesce, riso ancora, pollo fritto karage, ne è quella? Sì. Sacana? Questa è una crocchetta di carne? Monik no crocke. Ah, di patate forse, ma non è sicuro. E anche lui ha preso la zuppa. Vediamo un po' dentro com'è. Così, non è sicuro. Sembra triste, ma è buona. Vedete che è tutto sedimentato sotto, ma dovrebbe essere buona. E niente, e poi ha preso ancora del riso. Il riso è tutto, come il riso tutto. Niente, per oggi è tutto ragazzi, grazie di aver visto fin qua. Noi vi lasciamo perché siamo stanchi morti e vogliamo anche andare a mangiare e a dormire presto. Quindi mi raccomando, mettete like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale. Seguitevi anche sui social. Il mio Instagram è manu__28j e da poco ho aperto il canale TikTok, anche se non lo uso molto, dove mi chiamo è Tocchiocciola Manuela Giappalla. E mi raccomando, seguiteci poi nei prossimi video. Attivate la campanellina se non volete perdervi i prossimi video. Noi vi salutiamo, ciao, un bacione e matanè. 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 Matanè.